I poltergeist sono fenomeni paranormali che si manifestano attraverso attività apparentemente inesplicabili, come rumori strani, oggetti che si muovono da soli, luci che si accendono e spengono, ecc. Il termine poltergeist deriva dalla lingua tedesca e significa e fantasma rumoroso e o e fantasma chiassoso. Questi fenomeni sono spesso associati a case o luoghi specifici e sono stati oggetto di numerose storie e leggende nel corso dei secoli. Molte persone credono che i poltergeist siano spiriti o entità malvagie che disturbano e terrorizzano le persone. Tuttavia, secondo gli esperti del paranormale e gli investigatori di fenomeni paranormali, i poltergeist potrebbero essere il risultato di forze psicocinetiche o PK, anche conosciute come telecinesi, generate involontariamente da una persona, spesso un adolescente o un giovane adulto, in situazioni di stress o tensione emotiva. Queste forze psicocinetiche potrebbero causare movimenti di oggetti, suoni e altri fenomeni apparentemente sovrannaturali. Le teorie scientifiche sostengono che, invece di essere causati da spiriti o entità, i poltergeist potrebbero essere il risultato di energie psichiche inconsce che si manifestano nell'ambiente circostante. In definitiva, i poltergeist sono un fenomeno misterioso e controverso, e le opinioni sulla loro natura variano a seconda delle credenze e delle interpretazioni individuali.